Il signor Osborne sta arrivando. Dormite! Invoco al mio fianco le forze oscure! Mostrateci come salvare questo mondo impuro! Credo, Elfem e Ipsum, essiam vivere! Stolti! La vostra tecnologia non può fermare i serpenti di Elfem. Non toccateli, sono velenosi! Non fate caso a me, volevo solo ripararmi dal freddo. Dorm! La parola è Ghiazundai, che mi sono perso, oltre che uno dei quei soliti incantesi mi risveglia volontà. Non temere, ho lasciato il meglio alla fine, per te. Nulle satisfazioni spotiri non posso! Ehi! Sto già abbastanza male! Non mi serve ventilazione! Devo pensare a un piano alternativo. Oh no! Accidenti! Perché proprio io? Brutto bestione, adesso ti concio per le feste! Ma non mi dire, a quanto pare il nostro misterio non è il tecnofobo che dice di essere E Spidey colpisce sulla fascia! E ora occupiamoci della mente Che vuoi fare, sei minuccia? Il mio lavoro qui è finito Addio Spider-Man! I migrazias a Agimus con il fuma! Oh oh, ciao ciao! Ehi, prima appoggiatemi a terra! Mi sbaglierò... Ma almeno starò al calduccio! ... ... ...